Vi ricordate, io vi ho parlato nel ruolo della banda nella società, il ruolo sociale della banda, e a parlarvi di questo verrà una persona veramente tolata a farlo, ma oltre possiamo dire tutto quello che vogliamo su Mario, ma non lo voglio presentare con titoli o altre cose, lo voglio presentare come Mario Gio, il mio grande amico, un mi amico, Mario.